io dico che sottopondo a giocattoli a macchinine a motorezza alle costruzioni alla marea di giochi infiniti di giochi no deve giocare con la pentola i coperti amati no vabbè io li butti i giocattoli ma che nemmo le faccio per la batteria ma che era troppo niente li comprerò ho deciso una batteria proprio per sé per lui mi rompe i coperti fatemi sapere che non sono l'unica che fa così ecco qua e niente vado a preparare mattia mattia mi dai coperchi matti mattia come sbatti da fammi vedere eccolo il suo nuovo giocattolo bello lui proprio spensierato vabbè vi stavo dicendo vado a preparare un sugo con i bimbi ho intenzione di fare una ricetta nuova fermo una ricetta nuova con le melanzane però non so se farle gratinate al forno in fratello oppure vediamo che mi vado a inventare ci vediamo dopo altro aggiornamento l'alessio sta con un con mezz'ora un pane nutella che ha voluto il pane nutella e mezz'ora che lo sta tenendo in mano che non lo mangia strano questa è una cosa strana il mio ciuffetto sembra in aria lo devo tagliare ciao 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.